Siamo ad un passo dall'anniversario, 2009, la frana, l'alluvione di Piazza Bagni in Casa Micciola. Da allora che cosa è stato posto in essere per evitare quel tipo di disastro? Ma certo sta, da allora tante cose sono state fatte, nel senso che anche la normativa in materia, la regione stessa si è occupata di più sotto l'aspetto idrogeologico. E' chiaro che praticamente la zona del mortito, sono stati fatti già i lavori, è stato anche collaudato l'intervento, va avanti. La regione ci ha anche individuato come soggetto attuatore per poter predisporre ulteriori interventi, anche consistenti perché si parla di svariati di milioni di euro, interventi che dovranno essere approntati, progettati ed eseguiti. La tenuta degli alvei, parliamo sempre di mantenerli nella maniera giusta per evitare che venga sversato di tutto, come fu all'epoca, come fu riscontrato. Purtroppo forse le attenzioni, come si dice, oggi sono più forti. Magari, come ha detto il commissario, tutto con la storia, magari il letto, anni dopo si poteva evitare, non si poteva evitare. E' chiaro che quello che conta è capire bene che cosa è successo, in questo caso è così capito bene, e fare tesoro per non farlo succedere più. Ecco, perciò noi, purtroppo il terremoto ci ha anche un po' rallentato in questa azione, ma diciamo che la regione sta spingendo per poter portare avanti questi interventi.